ok lo fai tu lo fai tu fai rilosco magari Flori dici andare un attimo indietro così Giornozzaro sta più ah oh magari giratevi non ti do il vantaggio di Galli adesso continuate a scopare nessuno non scopate nessuno non scopate nessuno Marco hai fatto una lampo a venduta Marco hai fatto una lampo a venduta forse non ha tutta chi sa perché l'ha costruito lui l'ha messa così non ti c'è della tavola qua no suggerisce di parlare uguale a loro così non mi stai dietro e dai proviamo una dopo blocchi tutto però c'è anche questo laterale è troppo per cui è troppo non c'è più passaggio dopo e beh perché di qua c'è se ti siedeci dai perché non ti siedeci dai vediamo bene bene dai andiamo buona coppola buona coppola ma c'è un wireless Marco si qual'è? questo come è il password è vediamo se lo dico su aspetta ce l'ha scritto hai scritto? o o aspetta te lo mando per whatsapp Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. 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 . a tutti. . . . . . a tutti. . a tutti. 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 a tutti.